Professor Lancione, la questione del contratto tra Frontex e il Politecnico. Frontex ha bisogno di dati cartografici, Frontex è l'agenzia per il controllo delle frontiere europee e tra l'altro ha anche la possibilità di fare un'operazione di facciata perché può freggiarsi del prestigioso nome del Politecnico di Torino. Frontex è peraltro tuttora inquisito. Il Politecnico non conosce la destinazione d'uso dei dati cartografici che darà a Frontex. Come può commentare? Grazie della domanda. Commento dicendo, insomma ripetendo un po' le cose che ha già detto lei. Questo rapporto tra una università pubblica e un'agenzia europea a primo impatto può sembrare legittimo. Di fatto tecnicamente è legittimo, non ci sono problemi da quel punto di vista. Qui si sta parlando di un problema di opportunità. Nel momento in cui un dipartimento come questo e un Politecnico come questo si mette a fare carte che vengono definite neutre ma non lo sono e poi diciamo anche perché, con un'agenzia che correntemente viola i diritti umani, beh allora lì si pone un grandissimo problema. Le carte non sono neutre perché? Perché nella produzione di carte sulle migrazioni per un'agenzia come Frontex noi andiamo a rafforzare questa ideologia, perché questo è, dell'invasione. In questo momento noi sappiamo tutti che cos'è Frontex, no? È questa agenzia che deve controllare le frontiere europee. Nel nome stesso si percepisce qual è l'idea politica alla base di questo controllo. Si parla di una fortezza. Difatti tutte le infografiche prodotte, le cartografie prodotte da Frontex fino ad oggi sono le tipiche cartografie in cui lei vede i grandi freccioni rossi partire dall'Africa subsahariana verso l'Europa. Questi sono fattualmente sbagliati, noi non siamo sotto invasione, i dati lo confermano. Sono flussi migratori, tra l'altro in gran parte di richiedenti asilo. Quindi il problema sta nel fatto che Frontex respinge le persone prima che possono richiedere asilo. Questo è il grande problema, ma oltre a questo c'è anche questa costruzione discorsiva dell'assedio. Lei capisce bene che nel momento in cui la discussione discorsiva e visuale dell'assedio la fa Frontex, è un discorso. Ma nel momento in cui questa costruzione la fa il Politecnico di Torino, la costruzione stessa ha poi un avallo, tra virgolette, scientifico. Quindi domani, quando lei troverà queste mappe nei quotidiani nazionali e lo leggerà, leggerà queste mappe che evocano questa idea dell'invasione, dirà, ah sì, però sono mappe fatte dal DIST Politecnico di Torino, quindi sono vere. Quindi effettivamente questa cosa sta accadendo. Quindi c'è un aspetto che attiene all'etica della ricerca. Ma la funzione educativa si ferma alla scuola media secondaria oppure attiene anche all'università? Funzione educativa anche in senso lato, anche nei confronti della società civile? Ecco, questa domanda è una bellissima domanda. Se noi ritorniamo all'idea di università come idea fondante, diciamo, di che cos'è l'università, è proprio l'università che dovrebbe rivestire quella funzione educativa. Finita la formazione obbligatoria, lo studente, la studentessa, entra in un periodo della sua vita in cui non è più soltanto un'educazione fondata al trovare un certo tipo di lavoro, una formazione tecnica che è comunque importante, ma è anche una formazione legata alla comprensione dell'universo, alla comprensione del mondo. Naturalmente questo continua a essere marginalizzato nei nostri discorsi, continua a essere marginalizzato nelle politiche. Noi vediamo una continua commistione tra pubblico e privato. Queste commistioni tra l'università, le agenzie private, questo orientamento al mercato delle università, non sono solo problematiche nel senso capitalistico del termine, ma sono problematiche perché vanno a inficiare la nostra capacità di pensiero critico e quindi la capacità di fornire quel tipo di educazione. Nel momento in cui io faccio dei rapporti, un rapporto di servizio, di nuovo, con un'agenzia che non rispetta i diritti umani, e devo fare quello che mi viene detto dall'agenzia perché è un rapporto di servizio, sto in qualche modo lasciando da parte la mia capacità di pensiero critico, sto in qualche modo mettendola a lato. E questa roba qui poi dopo, se io la metto a lato nella mia pratica di ricerca, vuol dire che la metto a lato anche nella pratica formativa in classe. Come posso poi ai miei studenti andare a parlare di pensiero critico, di un certo tipo di educazione etica, quando poi nei fatti come ricercatore non faccio questo, ma faccio altro? Quindi questi sono i problemi. Grazie professore. Grazie a lei.